Siamo con l'assessore all'ambiente di Montelabate Pierluigi Ferraro perché il Comune ha fatto chiarezza su una doppia opportunità che i cittadini di Montelabate ma magari anche tutti altri cittadini soprattutto della regione Marche non erano a conoscenza. Sì, questa iniziativa nasce proprio appunto come dicevi per fare chiarezza su un argomento che negli anni non si è capito come ha creato insomma una serie di equivoci per cui da sempre si è pensato che lungo l'alveo del fiume non si poteva raccogliere la legna secca, quella caduta addirittura anche dentro l'acqua. E' sempre sui social la polemica che i cittadini anche se vedono queste piante cadute secche lungo il fiume non le possono raccogliere. Nulla di tutto questo non è assolutamente vero. Da sempre, dico da sempre, la regione Marche permette di poter raccogliere ripeto legna secca, non alberi verdi in piedi ma si sta parlando esclusivamente di legna secca lungo la parte demaniale del fiume Foglia ma vale per il fiume Metauro e vale anche per tutti gli altri fiumi della regione Marche. C'è un modulo da compilare, questo qua che si chiama modulo N2bis e quindi come amministrazione comunale in accordo con il resto della giunta, con la sindaca Cinzia, insomma con tutti gli altri assessori abbiamo deciso di chiarire una volta per tutte che la cosa si può fare e soprattutto aiutare i cittadini quelli che sono magari un pochino meno esperti perché abbiamo creato anche una pagina dedicata nel sito del comune dove si può scaricare questo modulo ma per chi non è capace, non riesce a farlo, può venire in comune basta compilarlo il modulo, mandarlo al genio civile Marche Nord e come segnalazione cioè guarda sto andando a raccogliere quella legna caduta lungo in quella zona lì, lungo il fiume e ripeto riguarda i fiumi di tutta la regione Marche. Ma da quando avete lanciato questa proposta o quanto meno avete fatto chiarezza su questo argomento avete già riscontrato una importante richiesta? Certo, assolutamente, già alcuni cittadini, 3 o 4 nell'arco di un paio di giorni sono già arrivati in comune appunto per chiedere informazioni spero che anche gli altri comuni facciano magari come abbiamo fatto noi una pagina nel loro portale dedicata a questa iniziativa. Come si deve comportare appunto un cittadino? Chiaramente ci sono delle prescrizioni, questo è importante, va detto non è che puoi arrivare con una ruspa e metterti a movimentare terra eccetera però sono cose che si possono leggere tranquillamente nel modulo non si può lasciare materiale di risulta non è che per caso mi prendi solo tutta la parte buona dell'albero e tutta la ramaglia la si prende, la si butta magari o la si lascia lì nel fiume va pulito tutto. I cittadini che raccolgono quella legna secca la potranno utilizzare perché tanto chi lo fa è perché ha un cammino, una stufa a casa e quindi anche da un punto di vista economico visto la crisi energetica che stiamo attraversando serve quindi da una parte questo e dall'altra si mantiene il territorio in questo caso l'alveo pulito e quindi quando arrivano le piene perché arriveranno sempre le piene e vediamo che purtroppo sono sempre più intense meno male con un alveo più pulito insomma il fiume scorre meglio vincono tutti